Abbiamo un bilancio che è molto lineare, anzi siamo l'unica, non voglio dire l'unica, ma sicuramente una delle prime città d'Italia che ha approvato in giunto il bilancio consolidato che porteremo credo il 29 settembre in Consiglio Comunale. E' una città che come altre soffre di politiche nazionali di finanza e di economia che sono molto dure nei confronti degli enti locali. Poi noi siamo in predissesto e quindi adesso c'è la grande sfida che non è del comune di Napoli, di come noi facciamo le variazioni di bilancio, come apriamo i PEG, come portiamo le delibere in Consiglio Comunale. Quello è un tema che viene affrontato nelle sedi competenti del Consiglio Comunale e della città. Adesso veramente il pallino sta in mano al governo e al Parlamento. Noi dobbiamo capire qual è la volontà politica per la prossima manovra. Se metteranno in campo non solo risorse, ma norme che consentano finalmente ai comuni e in particolare ai comuni del Mezzogiorno d'Italia, che sono stati quelli più penalizzati con le normative sul predissesto, a poter finalmente governare non più con catene, lacci, laccioli, senza soldi e con norme capestro, ma che finalmente quindi si potrà decollare anche sui servizi. Perché se tutto questo non avviene diventa tutto molto più difficile, dal salvataggio di ANM al miglioramento dei servizi nella nostra città, ma come nelle altre città che nemmeno stanno in predissesto e che nemmeno sono meridionali. Penso a quello che è accaduto a Livorno, ma potrei fare l'esempio di Roma, che ha avuto più leggi speciali. Insomma la situazione è davvero complicata e siccome è questo un tema generale, ma adesso è anche un tema della campagna elettorale, vediamo che cosa accadrà. Vediamo se i parlamentari napoletani e non solo napoletani porteranno avanti queste preoccupazioni in Parlamento, queste nostre idee, questi nostri progetti. Perché voglio aggiungere che qui non c'è solo la critica, non c'è solo l'aspetto destruenz, ma noi abbiamo presentato in ANCI al governo proposte esattamente per migliorare la situazione dei comuni e dare risposte forti ai servizi e quindi migliorare la qualità di vita dei nostri territori e dei nostri abitanti, dei nostri cittadini.